Ci hanno permesso quindi di incontrare una cultura diversa e di toccare con mano soprattutto quello che è l'apporto che CHI dà in questi paesi. È un'esperienza molto positiva perché permette alle persone che normalmente sono distanti dal luogo in cui viene emanato il sostegno di toccare con mano come l'associazione lo usa e come lo devolve.